Benvenuti a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo su un nuovo video di Minecraft Oggi niente live ragazzoli, cosa cazzo non è sta cosa qui nera pagata? Boh, non lo so, non lo voglio sapere Oggi niente video live sulla vanilla ragazzoli, ma bensì oggi giochiamo alle Bad Wars Allora ragazzoli, premessa, io non ho mai giocato al Bad Wars, a parte prima che ho provato un attimino per vedere come funzionava E ho fatto abbastanza cacare Quindi preparatevi a un video abbastanza cacoso Allora, se non riusciamo a entrare, ok, Bad Wars in solo Ok, andiamo Siamo nella stanza, siamo in 2, in 8, qual è la mappa? Bella questa mappa, non so minamente, io non conosco minamente nessuna mappa Quindi andiamo all'avventura, proprio primo episodio, come potete vedere No, non spunta più, prima spuntavo che ero a livello 1 Che ero a livello 1, ora niente, non spunta nemmeno quella Siamo in 5 in 8, siamo in 5 su 8 Prima siamo partiti in 7, quindi basterebbero altre 2 persone Siamo con Bob Sterbo, non so chi sia, TommyTheLegend, Capparo e ImGesFuG123 Ciao, ciao amico, ti saluto anch'io, ciao, ciao amico, ciao Ciao, no, questo sta cercando di rompere qualcosa ma non si riesce a rompere qualcosa Ciao, ciao, vediamo se riusciamo ad arrivare a 8 per poter partire Aspettiamo, aspettiamo e vedremo Ok ragazzoli, ci siamo, siamo in 8 Tra 17 secondi partirà la partita Allora, abbiamo dovuto cambiare mappa Adesso, prima eravamo in un'altra mappa Adesso siamo in questa, che non conosco manco questa Però va bene, tra 9 secondi partirà la partita Allora ragazzi, io non so far solo niente Quindi se avete dei consigli, scrivetelo sotto nei commenti Così, occhio, 3, 2, 1, via, si parte, si parte Allora, l'unica cosa che so è che dobbiamo raccogliere tanto materiale Dobbiamo raccogliere tanto materiale, perfetto, così, va bene Va bene, raccogliamo, raccogliamo, raccogliamo un po' di materiale, ok Dai, 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 arriviamo a 10 di ferro Ok, andiamo da item shop, ok, lui Compriamo il materiale, compriamo questo Va bene, e intanto andiamo a coprire il letto con la lana Che è abbastanza brutto, ma questo l'ho visto fare, questo l'ho visto fare Quindi copriamo il letto alla meno peggio, ok Proprio così, in maniera proprio brutta Copriamolo, copriamolo Siamo il team blu, ok, siamo il team blu Siamo il team blu Recopriamo altro materiale, ok Recopriamo altro materiale, torniamo dal tizio Non dovevi mettere un blocco lì Compriamo una spada 7, no, ce li ho 7 d'oro Che è successo? Non lo so e non lo voglio sapere Ora ce li ho 7 d'oro Ok Cosa ho comprato? Una spada di pietra No, la volevo la spada di pietra Volevo la spada d'iron Oh, perfetto Abbiamo la spada d'iron Ok, mettila qui La metti qui la spada d'iron? No, me la deve tenere forse lì Va bene Ok, abbiamo No, abbiamo solamente 12 blocchi Non abbiamo dove andare Ok, 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 ok Prendiamo qualche altro blocco Prendiamo qualche altro blocco Eh, sì Che è successo? Non lo so Allora Allora, fatemi fare un attimino di mente locale C'è qualcuno qui che rompe le scatole? No Allora Da quello che vedevo io prima Il... Proviamo ad andare in questo isolotto di lì Là dovrebbero esserci i diamanti Dovrebbero esserci i diamanti E là c'è il tizio che sta però camminando Può essere? Va bene Non fa nulla Andiamo, andiamo all'avventura Andiamo all'avventura, raga Non ho mai fatto una Bad Wars, raga Non ho mai fatto una Bad Wars Quindi abbiate pietà di me Vi prego Abbiate pietà di me L'acqua già è morta Ok L'acqua già è morta De tanta roba Ora fermati un attimo Che se il tizio sta arrivando di qui No, il tizio non sta arrivando Via, via Veloce, 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 veloce Veloce, veloce, veloce Veloce, veloce, veloce Red ha distrutto un letto Sto distrutto il letto di chi? Del red, ok Sto distrutto il letto del rosso Ok, siamo arrivati qui, siamo arrivati qui Spada in mano, spada in mano, spada in mano C'è il tizio, c'è il tizio C'è il tizio, c'è il tizio C'è il tizio, c'è il tizio Che ci ha fatto cascare Bene, così Risparmiamo fra 5 secondi Bello che lui c'ha il ponte Già fatto per la mia base Mi ha distrutto il letto E va a fangala Chi a te, chi non te lo dice puro Pure, ok Allora, stiamo calmi Ripercorriamo il percorso Dovrebbe esserci il ponticello qui Sta prendendo i diamanti No, no, no Sta prendendo qua Sta prendendo qua, raga Sta prendendo qua Compra una spada Compra una spada brutto, cretino Aia, 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 aia E dai, non vale, raga Non vale così Ma così non vale, dai Mi hanno ucciso Uffa, uffa Non so a che posizione sono arrivato Mannaggia, mannaggia E va bene, e va bene Usciamo e facciamo un'altra, raga Usciamo e facciamo un'altra Ok, raga Ci siamo Siamo nella seconda partita Mancano 16 secondi Siamo 7 su 8 E siamo pronti a fare un'altra figura di cacca Decisamente sì Però, però, però Non demordiamo Non demordiamo Riusciremo prima o poi a zeccare 5, 4, 3, 2, 1 Carichi, carichi, raga Carichi, raga Ok, siamo nella mappa Speedway Ovvero la mappa fatta col circuito Non ne conosco manco Prima volta che faccio anche questa mappa Però va bene Però va bene Allora, ci servono di sicuro Dando i blocchi per Coprire il nostro bellissimo letto E un'altra due Ok, andiamo a prendere i blocchi per coprire il letto Facciamo così Facciamo così Siamo il team verde Ok, siamo il team verde, raga Siamo il team verde Io il letto oramai lo copro sempre a prescindere Anche se forse non serve un cacchio coprire il letto Però va bene Soprattutto con la lana Perché te lo distruggono subito Comunque, raga Ripeto Se avete consigli Scrivetemeli nei commenti sotto Così mi aiutate a capire Come far funzionare questo gioco Mi serve uno di oro per avere Ok Ok Andiamo ad altizia Andiamo ad altizia Prendiamo la spada di Iron Ok Prendiamo qualche altro blocco Ok 14 Dai 47 47 47 Ok Prendiamo qualche altro blocco così random Prendiamo qualche altro blocco così random Allora, allora Vediamo un attimino com'è la situazione Vediamo un attimino com'è la situazione Andiamo in questa isola di qua O andiamo in quell'isola di là Andiamo dal nostro vicino, raga Proviamo a uccidere il giallo Proviamo a rompere il letto del giallo Proviamo a rompere il letto del giallo, raga Mi sa che sto facendo la cacata più grossa del mondo Però Greybed è stato rotto Ok Il letto del grigio è stato rotto Forse non ci basteranno I blocchi per fare questa cosa che volevo fare io Ci riusciamo ad arrivare a questo isolotto Sì Andiamo in questo isolotto Vediamo cosa c'è in questo isolotto Io purtroppo, raga, ancora devo prenderci le misure In questa modalità Però le proveremo tutte, raga Oggi mi sono lanciato sulle bedwars Cosa c'è qui? Una macchinina E non c'è un cacchio Non c'è niente interessante Dove sono? Uh, là ci sono i smeraldi Smeraldi, smeraldi Smeraldi, smeraldi Andiamo a prendere i smeraldi, raga Non so a che servono gli smeraldi Qualcuno mi dia delle dritte cortesemente Nei commenti, raga Perché io sono completamente ignorante Intendo ancora nessuno ha distrutto nessun letto Uno è volato giù per terra, ok Però nessun letto è stato distrutto Niente di niente Ancora siamo tutti amici, praticamente Salve, salve Posso prendere questi smeraldi? Uh, abbiamo preso gli smeraldi, raga A che servono gli smeraldi? Non lo so Però teniamoci la spada in mano Teniamoci la spada in mano E là ci sono diamanti Il blu Che sta a fare il blu? Non si sa Noi veniamo da qua, ok Andiamo a prendere anche i diamanti, raga Andiamo a prendere i diamantozzi Andiamo a prendere i diamantozzi Dove ci possiamo andare? Abbiamo solamente due blocchi, però Non ci possiamo andare a prendere i diamanti Abbiamo pochi blocchi Allora, quelli là già stanno combattendo Noi andiamoci ne via Veloci, veloci Veloci, veloci, veloci Velocissimi, anzi Veloci, veloci, veloci E che siamo bravi, però Dai, stiamo durando di più questa volta Questa volta stiamo leggermente durando Durando di più rispetto all'altra volta Allora, allora, via, via, via Guarda quanti belli blocchi che ci sono qua Allora, recuperiamo qualche altro Qualche altro blocco Dammi, dammi qualche blocco di legno 16 Va bene, va bene Mi puoi dare una spada più forte? 4 smeraldi No, non ce ne ho 4 smeraldi Allora, vai Copriamo il legno Copriamo ancora di più il letto Copriamo ancora di più il letto, raga Che non serve a una cimpa Però, però, però Forse riusciamo Riusciamo a farlo durare di più Riusciamo a durare di più in questa partita Coprendo il letto così Perfetto Via, 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 via No, ho finito i blocchi di legno Ma porca miseria Ho finito i blocchi di legno Recuperiamo, recuperiamo, recuperiamo Dai, 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 dai Dai così, dai così Allora, dammi questo Dammi Allora, dammi ancora la lana Che è successo? Io sento stanno esplosioni, raga Stiamo calmi, stiamo calmi Stiamo calmi Molti stanno morendo Molti stanno morendo Buono così, buono così Noi zitti, 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 zitti Ci andiamo a vedere Di prendere qualche altro smeraldo Ci vediamo la spada più forte E poi dovete darmi tante spiegazioni Su sto gioco, raga Perché non Dai, 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 dai Vediamo se ci sono smeraldi qui a disposizione Vediamo se ci sono smeraldi No, sto cascando Sto cadendo Sto caduto No, sto scemo So scemo forte So scemo forte Mi sono ucciso da solo Mi sono ucciso da solo Ora è normale, secondo voi Mi sono ucciso da solo Ho perso tutte cose Ma porca miseria Ho perso tutto Mannaggia No, 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 no Non mi puoi fare questo Non mi puoi fare questo Ti prego Non mi puoi fare questo Non mi puoi fare questo Sì buono, amico mio Sì buono Non sei buono per niente Non sei buono per niente Ora mi distrugge il letto E mi aspetterà lì praticamente Ecco, il letto distrutto E mi aspetterà lì E no, 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 no E dai, e dai, e dai Sì buono, amico Tutti quelli antipatici Tutti io li becco Comunque, ragazzoli Allora, queste prime due bedwars Hanno fatto completamente cagare Però, piano piano Ci prenderemo la mano, raga Se avete consigli Scrivetelo sotto nei commenti Noi ci vediamo stasera Alle 21.30 Con un altro video sul canale Bella raga Ciao